L'app Firma Digitale Aruba ti consente di eseguire una serie di operazioni su file e cartelle. Ti faccio vedere come fare. Apri l'app. Vengono visualizzate le categorie dei file. Puoi ordinare il file per nome, ultima modifica o dimensione. Per farlo, tocca nome. Dal menu che si apre in basso, spunta l'opzione da te desiderata. Per aprire un file, toccalo. Per eseguire altre operazioni su file o cartelle, tocca l'icona dei tre puntini in corrispondenza del file o della cartella che vuoi gestire. Dal menu che si apre, puoi condividerlo, scegliendo lo strumento attraverso il quale desideri farlo. Puoi rinominare il file o la cartella. Ti basta assegnare il nuovo nome e salvare le modifiche. Puoi spostare il file, scegliendo in quale cartella posizionarlo, e puoi eliminare il file o la cartella. Ed infine puoi creare una cartella. Tocca il pulsante più e poi crea cartella. Assegna il nome e scegli la posizione e salva le modifiche.